Io credo che il popolo greco sia stato una vittima sacrificale di questa operazione scellerata che è stata posta in essere mascherandola come un momento di democrazia. In primo luogo il quesito che è stato posto non era assolutamente chiaro ed è stata fatta una campagna elettorale da Tsipras basata su tre temi fondamentali. L'odio verso il sistema bancario presentato come l'affamatore dei popoli. L'odio verso l'Europa rappresentata come l'algida Germania collegata con i poteri forti delle banche e sui temi del nazionalismo e della dignità greca. La campagna elettorale di Tsipras è stata uguale nei temi a quella che fu fatta da Hitler nella Germania del 1933. Intanto io sono convinto che la Grecia non uscirà dall'euro a meno che il narcisismo e l'egoismo della sua attuale classe politica che così non ama il suo popolo da portare in questo referendum sciagurato la spinga fino a operare il sopruso sui greci di far soffrire, di far patire loro l'uscita dall'euro. In questo caso purtroppo l'Europa dovrà essere solidale nei confronti della Grecia, dovrà portare proprio cibo, medicinali ed energia. Ma sia chiaro che la colpa di ciò sarà della sceleratezza di questo governo così profondamente antidemocratico nel suo approccio. Non a caso le convergenze di estrema destra ed estrema sinistra in torno a Tsipras ricordano sinistramente la convergenza del patto Molotov-Ribbentrop in anni lontani, fortunatamente oggi su temi molto meno gravi, ancorché comunque pesanti. Ritengo che la situazione economica attuale ed internazionale abbia altri elementi di pericolo più importanti rispetto al caso greco. Il caso greco è stato molto ben gestito dalle autorità monetarie europee. Intanto fra l'altro è una leggenda falsa, falsamente messa in giro proprio dai demagoghi, che gli interventi della BCE e in generale degli stati siano serviti a salvare le banche greche per salvare le banche francesi tedesche. In realtà le banche greche avevano perso i loro denari perché li avevano dati incautamente e non correttamente ai cittadini greci, alle imprese greche che le hanno malespese. Quindi anche questo è un altro esempio di cattiva informazione per costruire questo mito della plutocrazia finanziaria malvagia, quella che già fu attaccata negli anni 30 dalle dittature, dai nazionalismi. Quindi io sarei molto tranquillo come risparmiatore, ci saranno alcune reazioni di mercato, ma la straordinaria azione che è stata posta in essere non da oggi da Mario Draghi, penso adesso al quantitative easing che consente di acquistare titoli e con ciò mantenere le quotazioni, ma anche a tutta l'azione che lui ha fatto in precedenza, famosa la sua frase «la BCE farà qualsiasi cosa sia necessaria per difendere l'euro», ecco questo ci dà la garanzia che l'euro si salverà e che si salverà il grande e meraviglioso progetto degli Stati Uniti d'Europa. Un'Europa senza Grecia non può e non deve esistere, ma non perché la Grecia è stata la cula della nostra civiltà e questo da solo già meriterebbe considerazione, ma perché nessun popolo europeo può stare fuori da un consenso europeo. L'Europa senza qualsiasi dei suoi popoli, qualunque dei suoi popoli, non potrà mai essere un'Europa. Ciò detto, occorre considerare che la partecipazione all'Europa significa la condivisione di regole comuni. Le regole comuni devono essere basate su una solidarietà responsabile, su una solidarietà giusta. Non vi può essere solidarietà senza giustizia e senza responsabilità. Tuttavia, proprio questa crisi è l'occasione attraverso la quale l'Europa potrà fare un nuovo passo avanti. I nostri grandi padri fondatori, penso a statisti della portata di Schumann, di De Gasperi, di Adenauer, che conobbero gli orrori della guerra, capirono che l'Europa era la salvezza delle sue popolazioni. Sapevano che a causa della disgraziata politica di esaltazione dei nazionalismi partita dalla metà dell'Ottocento non era possibile procedere subito ad un'unione politica. Per questo scelsero con intelligenza un metodo pratico, pragmatico, quello della progressiva integrazione economica. Ebbene, questa crisi ha documentato la necessità di avere più Europa, maggiore integrazione economica, che però non significa solidarizzazione dei debiti, significa solidarietà con responsabilità e quindi vivere insieme da europei. Ci ho detto, il nostro paese è uno dei sei paesi costitutori dell'Europa e la seconda potenza industriale d'Europa. È un paese che ha fatto degli straordinari cambiamenti in questi tre anni, anche se il processo di riforma è fortemente ostacolato dalle forti reazionarie che ancora dominano il nostro paese. Pensate soltanto quanto è potente la gerontocrazia nel nostro paese, poteri che sono sempre nello stesso posto. Ecco, il nostro primo ministro, a prescindere dalla valutazione sulle sue doti personali e sui suoi meriti politici, che non è oggetto di questo discorso, certamente ha rappresentato una discontinuità rispetto a certi stili nei metodi e nei linguaggi. Ha proposto delle riforme, ha portato avanti delle riforme, sta parlando un linguaggio diverso. Io non so se questa sarà la soluzione, se questo sarà il bene del paese. Certamente so che il nostro paese non poteva continuare ad andare avanti come andava in passato. Effettivamente in Europa oggi c'è la sensazione di un deficit di presenza dell'Italia. Nonostante abbiamo nominato Mr. Pesch, che nel nostro caso è Mrs. Pesch, cioè il ministro degli affari esteri comuni, non siamo riusciti a svolgere un ruolo importante nella crisi greca. E sicuramente questo è un altro esempio di come la governance europea basata sulla duarchia franco-tedesca non possa e non debba funzionare. Ma mi pare che siano gli stessi tedeschi e francesi a rendersi conto di ciò. E quindi naturalmente ci sarà un ruolo per l'Italia e per il nostro primo ministro, ma non per apparire, non per dire contiamo, ma perché tutti insieme dobbiamo costruire questa barca che ci salverà, che sono gli Stati Uniti d'Europa.